L'ASP di Reggio Calabria non sta adempiendo ad un provvedimento del Tribunale per un bimbo autistico e il garante Antonio Marziale precisa in una nota. In data 16 ottobre ho ricevuto dall'avvocato Stefania Pedà comunicazione che l'ASP di Reggio Calabria persevera nell'inedempimento. Nonostante gli incontri e le definizioni delle modalità di esecuzione, ad oggi il minore RM, come tutti gli altri piccoli ricorrenti affetti da disturbo dello spettro autistico e destinatari del provvedimento giudiziario emesso in via d'urgenza, non ha la garanzia delle cure con metodo ABBA, fondamentali per consentirgli di affrontare la vita di ogni giorno. L'ASP di Reggio Calabria non solo non sta adempiendo ad un provvedimento del Tribunale ma sta anche pregiudicando le cure di soggetti minori e disabili in violazione dell'articolo 32 della Costituzione. L'avvocato Pedà si riferisce al piccolino per il quale la madre era scesa in piazza urlando il proprio dolore al cospetto degli organi di informazione, continua il garante, ed io stesso sono stato tediato da rassicurazioni da parte della terna commissariale al punto che la stessa mi aveva autorizzata a rispondere alla mamma che il tutto avesse preso la piega risolutiva in pochi giorni. Successivamente la mamma e l'avvocato Pedà mi hanno riferito a cadenza quasi giornaliera anche di angherie sugli appuntamenti dati dall'ASP e ad ogni mia sollecitazione mi sono sentita a mia volta rispondere le passo questo, le passo quello. Un atteggiamento che non giustifico più e per il quale non posso continuare a fare da mediatore in quanto il tempo trascorso è troppo se consideriamo che ad attendere è un bambino autistico. Autorizzarmi a riferire a genitori in attesa di soluzioni che poi non si verificano conclude Marziale è un atto che ritengo offensivo per il ruolo che istituzionalmente ricopre.